Nicola, cosa è successo stamattina? Guarda qua mamma, un'altra volta, un'altra volta, sti ragni, guarda, hanno fatto di nuovo la ragnatella dentro alle pagnotte e prima dentro all'impasto e ora dentro alle pagnotte, cioè dobbiamo fare una bella disinfestazione in questa pizzeria, guarda qua, un altro ragno è entrato dentro alla pizzeria e ha fatto le ragnatelle nell'impasto, annacce, ora dobbiamo buttare un'altra volta tutto quanto.